Ma è stellato? È stellato? Come no? Come no? Ne ha tre di stelle quello lì. E io scusate, su questo è ignorante. Ma dico, ma tu puoi mettere il disclaimer, berrande escluse, ma che sei, no? You can eat. Il podcast dove ti raccontiamo le storie di sconosciuti, che nella settimana riescono a ritagliare un angolo di successo nelle più famose testate giornalistiche. Io sono Chiara. E io sono Matteo. Questo è Caramelle Da. Ciao a tutti ragazzi. Oggi non chiediamo come sta Chiara, Chiara non è nel... Oggi è San Valentino. Oggi è San Valentino, infatti... No, non sto triste per quello, ovviamente. Io amo San Valentino. Ma sai che ogni tanto mi chiedono, ma quella è la tua ragazza? Oppure... No, non siamo fidanzati. Non siamo fidanzati, siamo solo degli ottimi amici. Ma raccontiamo la storia di come ci siamo conosciuti? Ma no, ma mo ti pare il momento di raccontare la storia di come ci siamo conosciuti. No, è vero, magari lo vogliono sapere. Ma quelli l'amo, sono già tutti, no? Stasera che devo fare? Ok, no hai ragione. È ragione, è ragione. Questo magari stanno ascoltando questo podcast mentre sono nel loro tram, cioè capito io? A me piace questo viaggio, crearmi questo viaggio. Ok, ok. Allora, il 14 febbraio sappiamo tutti che cos'è. È San Valentino. Ma invece di dare quel taglio solito, quelle sono le curiosità, quelle sono queste, quelle sono quelle altre... No, no, io mi ho preparato la puntata su San Valentino. No, no, sì, sì, anche questa qua. Abbiamo un H di oggi, San Valentino, oggi è San Valentino appunto, ma è un po' diverso dal solito. Ok. Questo speciale lo vogliamo dedicare all'economia. Ora parte tutta la cosa... Perché? Cioè... Ma no, non è l'economia che pensate voi. Quanto incide San Valentino sul PIL? Quanto, no, no, piuttosto è. Quanto secondo te spende una persona per i doni di San Valentino? Partiamo dai doni. L'abbiamo parlato già al lavoro, abbiamo fatto una stima, maschio-femmina cambia. Maschio-femmina cambia, non ti vuoi inserire in questo... No, no, empiricamente abbiamo visto, facendo un sondaggio in ufficio, che empiricamente c'è una differenza. Funziona, eh. Quindi io ti direi un maschio più o meno sui 150 euro. Ok, ma totale? Totale, cena, fiore. Io ti chiedo solo il dono. Ah, no, solo il dono... No. Un mazzo di fiori di 30 euro. Sempre rimanendo in economia, non parlo dei pagamenti in natura. Nel bilancio, c'è la legge di bilancio che dice pagamenti in natura, ragazzi. Andate a vedere, non voglio fare allusioni. Ok, però io penso che più o meno 30 euro di fiori, 10 euro di cioccolatino, 40 euro sarà. No, in media una persona spende 71 euro per il dono. Urca. Per il solo dono, ragazzi. Cioè, io dico, ma che regalate alle vostre ragazze? Ma... Cioè, sono io tirchio? Ma questo è... No, ma anch'io di subito ho fiori e cioccolatini, non è che fai un regalo. Eh, ho capito, appunto. Poi, anche perché ci devi mettere un top la cena. Sì. E i preparativi di tutto, poi mettere il sacchettino. Perché poi c'è anche la cena, esatto. C'è anche questo, c'è anche quell'altro. Ma ditemi un po', voi quanto spendete per San Valentino? La vostra spesa di San Valentino? Io ancora non lo so perché... Scherzo! Mettiamo anche un'altra notizia così a caso. Un po' come facciamo noi. Che poi, se statistiche di prima, non è che le abbiamo prese dall'Istat. Quindi prendetele con le pinze, ragazzi. Però... Non dà le funge. No, Wall Street Journal. Wall Street Journal. Italia, su qualcosa. Ora, querele, querele a palla. Una cosa molto interessante. Il nostro caro e amato giudice di Masterchef, Paciocone Napoletano, aka Cannavacciolo, a Villa Crespi, offre una cena super conveniente per voi che non sapete cosa fare questa sera. Voi che state tornando, che fate i consulenti, che fate le slide a Milano e siete lì nei vostri trame e non sapete cosa fare, prendete la vostra macchina a noleggio, andate fino a Villa Crespi e spendete 300 euro a persona per la vostra cena di San Valentino. Beh, amici, almeno dovete essere tipo principal per permettervi 300 euro a persona. che per gli ignari sarebbe un gradino sopra, sotto il chi gestisce i clienti, eccetera. Bevande escluse. Ma, Cannavacciolo, scusami, ma tu puoi dire... Ma è stellato? È stellato? Come no? Come no? Ne ha tre di stelle. E io scusate, su questo è ignorante. Ma dico, ma tu puoi mettere il disclaimer, Bevande escluse, ma che sei? Non you can eat. Cannavacciolo, ma che stiamo facendo qui? Stiamo prendendo, non lo so, le cose da sollevante. Prezzo fisso, 300 euro, mangi quello che... No, non mangi quello che vuoi. È il problema, sai, però, per le bevande, il vino. Perché quando tu sei a questi livelli, il vino incide in modo importante. Ho capito, però dai, fa ridere. Fa ridere la roba, così, bevande escluse. Oppure quando prenoti su The Fork, lo sconto non si applica. Sì. Bevande coperto. Sette puntate. Sette portate. Bene, dai, dimmi un po', dimmi un po' che cosa hai. No, io avevo prenotato, avevo preparato una puntata per i single. Cioè, perché a San Valentino, vedi, tutti danno consigli, bla bla bla. Esatto, partiamo dal presupposto. Già il consiglio economico l'avete. Meno 71 euro nel portafoglio, meno 300 euro. Quale il trend, girl mats, per le amiche a casa che non sono fidanzate. Avete 70 euro in media, in più, nel portafoglio, quindi concedetevi un regalo. Ok, andiamo con le notizie. Andiamo con le notizie e partiamo da Ancona. Perché? Ancona Today recita. Non lo vedono da settimane. I soccorritori entrano in casa e scoprono che l'ottantenne era partito per l'India in segreto. No, ma che grazie. Cosa c'è di più bello? Di concedersi un viaggio. A 80 anni? A 80 anni. In India? Cioè. Ora, magari questa persona poverina non può farlo il San Valentino. Magari l'ha persa la sua persona della vita. Ma fatelo voi. Fatelo, andate via in segreto. I parenti chiamavano per 15 giorni. Lui non dava notizie di vita. Hanno detto, 80 anni, sarà successo qualcosa. Sarà successo qualcosa, esatto. Invece era in India. Ma tu immagina, cioè lui nella pace dei sensi, proprio lì nel suo templio, tranquillo. Che meraviglia. Senza Whatsapp, senza niente. Che poi abbiamo anche fatto l'ultima puntata sull'Apple Vision Pro. Ragazzi, la cosa è degenerata dalla scorsa puntata. State facendo tutti i covisori. Ah, è vero, l'ho visto anch'io un po' di video. Prendete esempio da questo signore. Presente esempio da questo signore. È andato lì ma senza neanche il telefono. Cioè, lui neanche voleva Whatsapp, praticamente. Ma lo sai che, cioè, secondo me, dopo un po' di anni che vivi in una città tipo Milano, ti viene un po' quella cosa di scappare. Sì, di fuggire. Di andartene tipo in un posto selvaggio. Di solito quelli che lavorano tipo in banca di investimento fanno ste robe. Che lavorano come cani per tutta la vita, tipo per dieci anni. E poi vanno tipo in Nepal. Eh, perché hanno guadagnato fior fior di soldi. Anche perché, tra l'altro, non solo li hanno guadagnati, ma non hanno potuto spenderli perché hanno passato la loro vita in ufficio. E quindi adesso, beati loro, possono... Quindi il consiglio di Chiara è... Apriamo la rubrica e il consiglio di Chiara c'è la... Ok, facciamo quest'altra rubrica. Le perle, le perline. Ok. Perlini plastiche. Lavorate come bestie. E poi concedetemi un viaggio. Perché poi ha più valore. Sì, cosa sono dieci anni, ragazzi? Dieci anni. Cosa sono dieci anni della vita? Quando stai in ufficio nemmeno te ne accorgi. Ok. Vedi il sole che sorge, che tramonta. Perché pensate che abbiamo questo occhiaio, no? Scherzo, scherzo, scherzo. È importante avere un equilibrio nella vita. Esatto. Quindi, niente, andateci con la vostra dolce metà comunque. Se volete. Capisco che era un... In India è un viaggio da fare da solo, no? Tu non lo farei? Tu lo farei? Io no. Non lo farei in India da solo per vari motivi. Il primo, il principale, è che avrei tanta paura delle ripercussioni che potrebbe avere la mia salute perché l'igiene non è fantastica lì. Io lo stesso motivo... E quindi non lo farei solo. Attenzione. Scusa, in che senso? Devo avere qualcuno che conosce la mia lingua, che sta con me e si prende cura di me in caso succeda qualcosa e chiama qualcuno in Italia a dire, guardate che... Ok, capisco il tuo punto perché effettivamente ha senso il fatto di voler qualcuno che chiama l'ambulanza. Esatto. Se succede qualcosa. Però... C'è un TikTok su una persona che diceva che era andata in India e aveva chiesto perché appunto le persone mangiasse... Lo so, mangiano con la mano destra, anche io l'ho visto con il TikTok. Oh mio Dio, cioè da lì ho cambiato idea sul viaggio. Chissà con che mano mangiava. No, per chi non lo sapesse, si mangia con la destra, ci si pulisce con la sinistra. Perché non c'era parte di... Eh, dicevamo. Vabbè, comunque, faccio sta che... Tu lo faresti o no? Sì, no, brutale, via. Non prioritario, ecco. Non è nella mia to-do list nei prossimi anni, sempre per la questione igienica. Mi piacerebbe fare l'India un po' più quella, tipo, nelle montagne. Ah no, pensavo fancy da... Esatto, ora dicono, ecco, lo stereotipo è la basic beach bianca che va a ritrovare se stesse l'india, mangia pregama. Però sì, però sì, diciamo che lo stereotipo... Sì, ragazzi, farei quello. Andrei in un monastero a ritrovare me stessa. Sì, te stessa servita da persone sottopagate perché lì, appunto, parliamo... Ah, aspetta, se vuoi usare alcune cose lì, vai, dire a te. Non dimenticare di seguire Caramelle d'A sui social per contenuti esclusivi, backstage e tanto altro. Anche di stipendi. Oh ragazzi, oggi è un... Cosa dico la mia? Cioè... Vabbè, comunque... Quello di stipendi sono bassi. Comunque, parlando sempre di solitudine, perché questo vecchietto si spacca la vita in solitudine in India, c'è un fenomeno in America che sta prendendo piede. Infatti... Comunque è tornato il gancio e questo qua è stato uno dei ganci... È stato uno dei ganci fluidi. Smoot, proprio. E l'ho stoppato, l'ho interrotto esattamente per questo, perché non sarebbe stato in stile Caramelle d'A. Grazie, grazie per aver rotto la poesia del momento. Comunque, Repubblica cita. Io cito Repubblica in realtà. Vabbè, comunque, felice e single. Negli Stati Uniti cresce il fenomeno delle feste di divorzio. Adesso. Adesso. Bello. Questo è un topic, perché un tempo era un po' una roba un po'... Da sfigatelli. Un po' come essere pelato. Un po' un fallimento, il divorzio. Adesso ha fatto il giro la cosa. Cioè è diventato... Sei sfigato se sei ancora sposato. No, non volevo dire questo. Ah, tu... No, no. Tua moglie non ti ha fatto le corna? No, no. Non volevo dire... Loser. No, nel senso, volevo dire che è una cosa, cioè un... Cioè sì, è un po' interiorizzato il fatto che sia un passaggio della vita. Come ci insegna la nostra diva, Hilary Blasi. Hai visto il documentario di Hilary? Ho visto, come no. Beh, a me è piaciuto. Cioè io, poi queste cose, amo proprio quelle che ti liberano il cervello. Noi parleremo anche della questione Totti un giorno, perché questo qua è 850.000 euro, ragazzi, è quello lì. Comunque. Vabbè, comunque... Loro la festa non l'hanno fatta sicuro. Secondo me sì. Secondo me invece Hilary l'ha fatta con l'amica, quella parrucchiera che gli ha fatto conoscertivo. Ha fatto la festa con l'amica, non è in una buona posizione. Comunque, si è registrato un più 22% dal 2019 di questi divorce party. Aspita. Cioè, più 22%. No, non è poco. Sono, cioè, per inquadrarti un po' il fenomeno. Cioè, tutti i KPI che ci fanno capire che questo fenomeno è in esplosione. Quindi, idea di business. Perché come arriva in America, arriva qua in Italia. È così un attimo. L'amica Totti e Chiara dice queste cose qua. Sì? Quindi, un attimo. Wedding planner e divorce planner. Esatto. Sono nate catene di aziende che curano i parti di divorzio. Come c'è il wedding planner, c'è il divorce planner. Cioè, vabbè, avete capito. Comunque, la catena di Nut Club All at the Moon. Tanta roba. Già mi piace la questione. Vai, 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 vai. Registra che i divorzi, cioè, i parti di divorzio sono passati da 5 a 30 nel 2023. Cioè, 30 serate in cui ti bloccano la sala per fare… È una crescita davvero. È un 6 per. È pazzesco. È pazzesco. Cioè, due volte al mese tu hai la sala bloccata per una festa di divorzio. Una nightclub, capito? Cioè… Sì, 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 sì. Un solo nightclub, immagino gli altri. Due volte al mese. Magari questo qua sarà quello un po' più fighetto, altrimenti non sarebbero andati a parlare con questo nightclub. Ma è una catena di nightclub. Penso che sia perché è il più grosso. Però, porca miseria, cioè… Tanta roba, tanta roba. Ma addirittura il nostro amico Amazon ha una playlist per i papà divorziati. Cioè, tu cosa metteresti in una playlist per… cioè, come target? Caspita, questa è una domanda difficile. Guarda, non so, non mi viene in mente niente. Cioè, forse rimetterei, in piena crisi di mezza età, rimetterei tutte le canzoni che ho vissuto, tipo, ora, nei miei 20s. Ok, tipo farei una roba del genere. Ah, tipo un po' i Pink Floyd, qualcosa così, metterei. No, e poi tra l'altro, cioè, io non lo so, ho tipo uno stereotipo nella mia testa, un po' da maschio, no? Beh, no, tu, un po' da maschio, tu? No, 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 lo stereotipo sull'uomo divorziato, con la foto su Facebook con i Ray-Ban e il colletto alzato, con la frase sono… Ma secondo me non esisteranno più, cioè, secondo me ora esistono. Ah, da qualche anno. Nelle generazioni future saranno su Tinder queste foto. No, non penso, perché… Ma chi lo sa, ne evolveranno in social… Chi lo sa, chi lo sa. Però, cioè, quella cosa tipo con la frase, sono stato buttato in mezzo ai lupi, ne sono uscito capobranco, cose così mi aspettano. Ah, dai, ragazzi. Quindi come musica, sì, la musica loro un po'… Ah, tipo Eye of the Tiger. Esatto, bravo, bravo! Quella, quella mi aspetto, come prima canzone. Ehi, ci sono io, Ray-Ban alla Maverick, alla Top Gun. Esatto, a febbre di sabato sera, quello mi aspetto dalla playlist di Amazon. Tenendo da parte questa scena triste, io ho da dire che comunque effettivamente il divorzio deve essere un attimo visto anche come… No, non una festa, però come qualcosa di bello, perché alla fine erano due persone che non si amavano. È un momento di passaggio. Poi, quando entrano in mezzo agli avvocati, è sempre difficile. Mettiamola così. Però, bene. Però, poi, c'è anche l'equivalente della donna, non è che sono solo gli uomini che fanno queste feste. Anzi, secondo me, se posso azzardare un assumption, secondo me sono più le donne che festeggiano. Sai quelle robe un po' tramite? Grazie a Dio, l'hai detto tu che sei donna. No, è vero. E hai questo passport. No, è vero, tipo, sai quelle striscione, just… Eh sì, un po' te ne torni con gli amici. Nello stereotipo americano è questo. Sì, comunque, non sto scherzando, arriverà questo treno anche in Italia. Ristoratori, attrezzatevi. Puoi dispogliare il listo, puoi dispogliare il listo. Sembri borghese. Ristoratori. Per questa ballerina di lap dance, 10. Guardate che un giorno mi chiamerete. Comunque, andiamo avanti. Andiamo avanti perché tu pensavi sono single, allora vado a farmi un viaggio e affogo le mie tristezze, le mie pene d'amore in un viaggio. Invece no, perché compagnia aerea inizia a pesare i passeggeri insieme al bagaglio a mano. Eh sì. Ok, quindi tu mi hai dato un consiglio nella prima… E invece no. E ora no. Invece no. Bene. Solo gli sciocchi, non cambiano idea. E invece no, amici. Alla testezza non c'è mai fine. Cioè questa, la Finnair, che è una compagnia finlandese… Mettono insieme, sì. Pesano te e il bagaglio. Per una questione di ottimizzazione del carburante. Degli spazi e del carburante. Perché sai che il peso… Ma fanno davvero di tutto per ottimizzare sto carburante. Ho capito, ragazzi. Che tristezza, raga. Fatelo pagare un po' di più questo. Io oggi ho visto, a proposito, una foto di una first class negli anni sessanta, dove c'erano ste osse che tagliavano prosciutto. Eh, vabbè, vabbè. Così si mettevano lì vicino. Ora, ragazzi, vabbè. Cioè, al massimo ci sono due tendine. Ci sono due tendine. Sporche. Ti lanciano un biscotto. A buono. Sì, già mangiato dal capitano e ti dicono dai, vai. Non ci sono più le first class di una volta. Ma va, ma chi c'è mai andato in first class? Però, cioè, voglio dire, anche normalmente... No, dai, prima l'Italia qualcosa della dava. Ti ricordi quella notizia con Berlusconi? Cos'è che era? Giù casella? No, sì, giù casella. E altro, vabbè. Prendete quella puntata e fa spaccare. La puntata delle truffe. Esatto. La puntata delle truffe. Bene, il mio commento su questo è è ancora un altro passo verso la discriminazione delle persone sovrappeso. Ottimo. Immagina, cioè, tu, scusami. Dai, ora, a parte i scherzi, io non voglio fare il demo cristiano, figuriamoci. Però, cioè, se tu trovi una persona un po' sovrappeso... Sono d'accordo, si può sentire a disagio in questo caso. Tu metti dieci chili, dico... Ma non per forza sovrappeso. Ci possono essere persone che hanno problemi... Cioè, ci sono libri su questo, persone che hanno problemi sul proprio... Sicuramente. Ma poi, la questione è, dove arrivi? Cioè, oltre una certa... Sai, che fai? Quota 100? Cioè, come la pensione, come l'Inps? Ci sono duemila stime, fai la media, quando devo pensare a una persona, cioè, nel senso. Fatti due stime. Diciamo questa compagnia aerea, di cui non mi ricordo il nome, e c'è un motivo. Finair. E c'è un motivo. Fa solo Finlandia e UK, quindi non ci impatto. Allora, ragazzi, andiamo subito con le nostre notizie dal web, che anche questa volta non è una notizia dal web. È un po' quella rubrica di Matte, dove no? Vede video, vede cose. Vabbè, vai. Non parliamo di Sanremo, perché sarebbe banale, nonostante le nostre previsioni siano andate nella top 3. Però quella, quindi, ci sta. Però quello di cui vorrei parlare è invece il video che ha postato Annalisa durante, non mi ricordo, o subito dopo Sanremo. Quale? Aspetto. Allora, Annalisa seduta. Questa è l'immagine, vi do l'immagine. Annalisa seduta. E già dovrebbe partire un applauso. Questo è l'engagement della risposta, schia. Vabbè, l'intervistatore appunto chiede quali sono le tre cose che nessuno sa di te. E te le elenco, ok? Ve le elenco. Che laureate in fisica. Annalisa dice, mi piacciono i gatti. Ottimo, Annalisa. Anche a me. Ho parlato di Iro da mesi. Ti sto escludendo questa cosa perché è una roba tra me e Annalisa. Va bene. Due. È laureata in fisica. Ma va, questa cosa la sanno tutti, cioè. Io, cara mia Annalisa, avevo dieci in terzo superiore. Beh, sì, ciao, quando? No, non avevo dieci, avevo nove, però un onestissimo nove. Sì, sì, era il mio. Abbiamo un'altra cosa in comune. Hai visto come piccolo il mondo. Tre. Annalisa dice, sono sposata. Come ti permetti? What? Come ti permetti, Annalisa? È sposata? A dirlo così. A dirlo così. Ma con chi è sposata? Cioè, aspetta. È sposata, Chiara. È sposata. E non l'ha detto a nessuno. E ora? Ma era un troll. No, no, no. E vabbè, allora sarebbero stati un troll anche la questione dei gatti. Con chi? Scusa. Cioè, esce un nomadist, non lo so. Butti così, lanci la piede, letti la mano. È una fake news e io non sono al passo coi tempi. Però, se è successa una roba del genere, sappi che non si fa così, cara mia Annalisa. Io avevo pure puntato tutto su di te. Esatto. E tu così te riesci con il gossip. Vabbè. Bene, ragazze, di certo non parlate di Annalisa nel vostro Tinder date di questa sera. E che è San Valentino. Non lo fate. Perché altrimenti diciamo che non andrà bene. Però fateci sapere come è andata la vostra, il vostro date di San Valentino. Esatto. San Valentino date. Parlate ai vostri Tinderini delle nostre notizie. No, offriteli un viaggio in India. Fate qualcosa. Un parchi di divorzio. Grazie per seguirci. Sostenerci. Noi vi mandiamo un beso. Ciao. Ciao. Caramelle dà è un podcast di puro intrattenimento. Esortiamo gli ascoltatori ad informarsi in maniera cosciente e ricercare ulteriori dettagli esclusivamente a stavere soppunti attendibili. Se il podcast ti ha strappato un sorriso, lascia una recensione ed un commento e condividi la puntata con i tuoi amici per supportare la serie.